Ciao, sono Giuseppe Marchesan, istruttore Spartan SGX, siamo a Disone Svizzera e vediamo la tecnica per il barbed wire. Potete rotolare o potete strisciare come preferite, come siete più comodi, come riuscite a farlo nel modo più veloce, economico o facile. Quindi, o spingo con le gambe, tiro con le braccia, vado avanti così, o potete rotolare in questo modo, se vi è più comodo. Come per voi è più veloce. Finito questo, ripartite per il vostro percorso. Ciao!